Ciao, oggi vorrei iniziare una serie di video un po' diversa, fare qualcosa di nuovo. Tutti i giorni purtroppo assisto a quello che io chiamo la corsa al buffet. È presente quando si aprono i cancelli e tutti corrono verso il buffet per accapararsi il piatto, fare il piatto enorme, il piatto più grosso possibile. Ecco, più o meno ti sto facendo questa scena a livello Black Friday, quando tutti entrano nei negozi. Ci sono un sacco di persone oggi che postano video e contenuti su come guadagnare online. Però guarda, ti assicuro che più vedo questa cosa fare, più mi viene voglia di chiudere completamente i miei canali video e non fare più contenuti che riguardano il guadagno online, quindi non vorrei parlarne proprio più. Cioè pare che ci sia la corsa all'oro per accapararsi la pepita più grande, che poi in realtà il mercato della formazione per il guadagno online è piccolo in Italia, quindi sembra che ci siano sempre le stesse persone a comprare o a visualizzare contenuti e sempre le solite persone che cercano di accapararsi sempre gli stessi. Quindi tu vieni da me, no, poi vieni da me, torna da me. Insomma, tutto questo mi fa un grande schifo. Che schifo! Che schifo! E soprattutto il tipo di comunicazione. Se all'inizio per dire sentivi dire solo io posso insegnarti come fare A, adesso siamo arrivati addirittura al punto di sentir dire tutto quello che fanno gli altri è una gran merda, tutto quello che ti dicono fa schifo. Cioè si è arrivati addirittura proprio a insultare e insabbiare tutti gli altri. Marco Doria fa schifo! Marco Doria fa schifo! Capisco che fa parte delle PR, capisco che facendo così si ottengono risultati, ma comunque non è quello che voglio fare io parlando di queste cose. Mi scoccia un sacco, lo trovo una cosa che funziona forse sul piccolo periodo, ma abbiamo visto tutti e se sei una persona che un po' segue questo mondo, sul lungo periodo non funziona. Ma poi dimmino, se sei una persona che comunque consuma questo genere di contenuti business, marketing, guadagno eccetera, ma non ti sembra tutto un po' troppo noioso? Cioè tutto uguale, tutto... Cioè la parola giusta è noioso. Io veramente, essendo una persona che comunque ne ha macinati di questo tipo di contenuti, mi annoio, cioè non riesco più a guardare questo genere di cose con gli occhi dell'interesse, ma quando lo guardo sarà perché sono drogato di contenuti business, mi sale proprio la noia totale e mi sono chiesto più di una volta, ma Marco è giusto continuare a fare questo tipo di contenuti, sviluppare questo tipo di contenuti, è giusto continuare a parlare di questa cosa? Non rischi di diventare noioso come sono noiosi questi contenuti, che è il mio terrore in realtà. Cioè il poter sembrare noioso e diventare noioso non fa proprio parte di me, anzi è una cosa che io temo terribilmente. Marco Doria è noioso. Marco Doria è noioso. Quindi ho deciso di fare come ho sempre fatto, ovvero rompo lo schema. Mi ribello alla cosa e cercherò di fare qualcosa in chiave più Marco Doria, più divertente, più dinamica, più vera, il più vero possibile soprattutto. E quindi ho cominciato a testare, ho provato a fare un paio di video che si chiamano come fare soldi con... e ho provato a farlo sia con i tifosi di calcio, sia con le mammine pancine. Probabilmente se mi segui sai di che video sto parlando. Devo dire che sono video che hanno ottenuto un grosso successo, nel senso che ho proprio ottenuto un riscontro dalle persone che mi scrivevano, mi dicevano Marco finalmente qualcosa di nuovo, mi piace un sacco come hai messo questa cosa qui, come hai messo il contenuto, la chiave di lettura che ho usato, la chiave di comunicazione che ho usato, anzi addirittura molti colleghi, ci siamo incontrati a Roma un po' di tempo fa, mi hanno detto grande, bellissimi questi video, finalmente eravamo un po' stufi perché in realtà la marea di contenuti che ci sono oggi è noiosa, tutta uguale, tutta da camicia bianca, mi sembra che un tempo io usavo, per carità non voglio sputarci sopra, però mi ha stufato, adesso sono in maglietta nera e parlo in maniera diversa e utilizzo il mio modo di comunicare, quindi se devo avere uno zoccolo duro di persone che mi seguono, se voglio continuare ad avere la mia community, voglio farlo a modo mio, quindi da adesso in poi le cose sono differenti, anche gli ultimi corsi che ho fatto, li ho fatti in maniera differente, sono stati corsi completamente diversi da quello che può essere il panorama formazione sul guadagno online che ci sono, sono andati molto bene, per carità alcuni argomenti sono nuovi, quindi in realtà ho fatto un po' io il pioniere, come dico sempre i pionieri muoiono di fame, però, anzi, muoiono magri, scusa, la verità è che muoiono magri, però devo essere sincero, i corsi che ultimamente ho messo sul mercato sono andati molto bene, quindi vuol dire che la chiave di lettura, la mia chiave di comunicazione deve essere assolutamente questa. Quindi vorrei cominciare a fare questa serie di nuovi video che raccontano la verità sul guadagno online, ovvero come funziona realmente questo mondo, cioè come un marketer che fa questo mestiere, guadagna da questo mestiere, si mantiene da questo mestiere, vive le sue giornate, che è un po' differente da quello che ti fanno vedere su Instagram, con i villoni e le Ferrari che sembra che tutti debbano avere il jet privato, eccetera, eccetera. La verità non è quella, per carità, quando hai i tuoi soldi ci puoi fare quello che vuoi, però vorrei farti vedere appunto il punto di vista di un marketer che è differente, cioè come la vive un marketer e come riesce a captare quelli che sono i desideri di mercato e ci crea sopra delle offerte sotto forma di soluzione per tranne un profitto, cioè come funziona realmente la vita di un marketer. Quindi parleremo di appunto come si guadagna online, quali sono i ventagli di opportunità del guadagno online, che sono comunque grandi, oggi nel digital hai possibilità veramente di spaziare e di andare a lavorare sul settore che ti piace di più, perché comunque tutto è monetizzabile se sei capace a cavalcare un desiderio di mercato, tutto. Quindi in realtà vuol dire che se tu vuoi diventare un marketer, vuoi imparare questo mestiere, puoi lavorare su quello che ti piace di più, cioè non hai limiti. Questa è la grossa libertà che ti dà questo mestiere. Però è un mestiere artigiano, cioè c'è tanto da fare e in realtà sono poche le giornate che passi sotto la palma a bere dalla noce di cocco. E' più un impegno costante tutti i giorni ad arrivare agli obiettivi. E poi per carità il lifestyle del marketer è bello, ma in realtà non confondiamo quello che è il mondo di Instagram, quello che si presta bene Instagram come social, da quello che è la verità. Quindi in questa serie di video vorrei semplicemente farti vedere il mio punto di vista che è il punto di vista di un marketer che da 20 anni mette le mani nella merda e si sporca su offerte di serie di mercato, prodotti e servizi. Che dici, ti piace l'idea? Come al solito se hai qualche suggerimento su qualche argomento scrivimelo qua nei commenti. Intanto ci vediamo al prossimo video. Ciao!